Eeeh... Eeeh... Di ai tuoi compagni che solo Edoardo può esaltare. Eeeh... 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 Datemi i progetti. Voi siete l'assassino, giusto? Dovete fermare Cesare. Vi aiuterò. Lasciate che vi ci conduca. Grazie. 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 Mi abituerò mai a questo fetore. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Colpite! Se sapete qualcosa, fatevi avanti. Staccatelo! Prendete tutti! Prendete! 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 Forse il nostro uomo! Vediamo se riesce a mordere la mano del padrone. Grazie per la visione. 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 Grazie per la visione.